Domani giovedì 4 novembre uscirà il mio videocorso Accumulare Capitale, il corso di educazione finanziaria volto a chi vuole sapere come costruire un portafoglio in autonomia per accumulare capitale nel lungo periodo. In questo video volevo parlarvi di come ho realizzato questo corso e cioè come è nata l'idea di un videocorso di educazione finanziaria, come sono riuscito a portarlo a termine e chi mi ha dato una mano a realizzare questo bellissimo progetto. L'idea di un videocorso che desse ai piccoli investitori le informazioni necessarie per costruire un portafogli in autonomia mi è venuta esattamente un anno fa, una volta che la crisi del coronavirus si era stabilizzata. Ormai da anni avevo costruito portafogli per me, la mia famiglia e i miei amici, però c'era sempre quel dubbio nella mia mente. Avrei fatto bene le cose? È vero quello che dicono che c'è una bolla? È vero quello che dicono che gli ETF non sono sicuri? Ecco, con la crisi del covid io ho visto i portafogli che avevo costruito comportarsi esattamente come li avevo pensati. Niente sorprese, niente inceppi nel meccanismo e allora mi sono convinto che era il momento di fare di più. Io già da anni e anni parlavo di economia e finanza coi miei amici, alle cene, agli aperitivi, finché un bel giorno il mio amico Alessandro De Poncini, meglio conosciuto su YouTube come ADC, mi dice, senti ma tu che ne sai di economia e finanza e ti piace parlare di queste cose e le rendi pure interessanti, perché non apri un canale YouTube? Fai esattamente quello che fai adesso, cioè parli di economia e finanza, ma lo fai con un pubblico molto più vasto. Io ci penso un po' su, dopodiché torno da lui e gli dico, sai che c'è? Apri un canale YouTube e lancio pure un videocorso come hai fatto te. Perché? Perché le cose che servono a un piccolo investitore per costruire un portafoglio sono poche e possono essere spiegate con un videocorso di poche ore. In tutta onestà, questi concetti dovrebbero essere insegnati a scuola, si studia la storia e la geografia, non vedo perché non si insegnino basi di economia e finanza, almeno per costruire un portafoglio personale in autonomia. Decisione presa, comincia una vagonata di lavoro che se l'avessi saputo prima, beh, se l'avessi saputo prima l'avrei fatto lo stesso, perché mi piace tantissimo, però c'è stato tanto, tanto lavoro da fare. Ho scritto i manuali gratuiti, alcuna ricchezza in vesti come mangi, che potete scaricare dal link in descrizione qui sotto. Ho preparato la scaletta dei video, il sito, le inquadrature, come usare le telecamere, le luci, il montaggio su premiere, tutte cose che mai avrei pensato di fare in vita mia. E infine quest'estate, mentre tutti erano in vacanza, in una padova calda e deserta e quindi silenziosa, vi ero in ufficio a scrivere, a girare e a montare il corso. La parte più difficile è stata come sempre la scrittura, perché mi sono messo nei panni di una persona che si sta facciando il mondo degli investimenti e si informa online, quindi che probabilmente segue diversi canali di finanza su YouTube, legge dei blog su Google, magari anche in inglese, e che quindi qualcosa di investimenti sa, magari su alcuni punti anche ferrato, però ha ancora della confusione in testa, e soprattutto non ha un modo ordinato di procedere. Difficile, perché ho dovuto immaginare una scaletta di video che spiegassero come affrontare il mondo degli investimenti in modo olistico, facile però perché ci ero passato anch'io e quindi sapevo le cose importanti da toccare, i punti delicati dove uno si sente spaesato e soprattutto l'approccio. Noi viviamo in una specie di bazar, per cui siamo tirati per la maglia da tutte le parti e non abbiamo mai il tempo di vedere le cose dall'alto e ragionare a mente fredda e con buon senso. Ecco, l'obiettivo che mi sono dato è di dare una visione e un modus operandi al piccolo investitore inesperto, esattamente come ero io anni fa, non per insegnargli come diventare Warren Buffett, che è inutile, ma per fargli capire quali sono gli step e come ragionare su ognuno di essi per arrivare a costruire un portafoglio in autonomia. Una volta scritto bene il corso, l'ho girato col condizionatore a palla, ho trasformato lo studio DC in un frigorifero perché sotto le luci in pieno agosto con la camicia, vi lascio immaginare, e poi l'ho montato, l'ho caricato, ho fatto mille integrazioni assieme ad ADC che praticamente potrebbe fare lo sviluppatore ormai da come si sa muovere su quei sistemi ed eccomi qua. La mia idea è molto semplice, gli investitori si dividono in investitori difensivi e intraprendenti. L'investitore intraprendente è Warren Buffett, è il Gordon Gecko di Wall Street, è l'investitore imprenditore che ha delle capacità di interagire con il mercato finanziario fuori dal comune e gli fanno ottenere ritorni straordinari, ma anche prendersi dei bei rischi. L'investitore difensivo è l'investitore che sa che il mercato finanziario è in grado di ottenere ottimi ritorni e nel suo interesse vuole partecipare a questi ritorni in modo ordinato, conservativo, senza prendersi rischi specifici. Per diventare investitori difensivi non serve avere una laurea in finanza, non serve essere come Warren Buffett, bisogna capire alcuni concetti fondamentali di come funziona il mercato finanziario e adottare la giusta mentalità, che altro non è che buonsenso. Questo è lo scopo di accumulare capitale, fornire in modo chiaro e ordinato le informazioni che vieno gli strumenti al piccolo investitore per ottenere la giusta quota dei ritorni del mercato finanziario. Non è una mia idea, non ho fatto altro che riprendere il pensiero dei grandi finanzieri americani, come Warren Buffett, Jack Bogle, Ray Dalio, Benjamin Graham, David Swenson, Joel Greenblatt, Philip Fisher, Jeremy Grantham, eccetera. Ho messo insieme le loro conoscenze, applicate sulla mia personale esperienza ed ecco qua, questo è il risultato. Diciamo che sono un divulgatore o un educatore, non certo un investitore intraprendente, solo un investitore difensivo. Questa settimana sarà tutta dedicata al lancio del videocorso e ci vediamo domani, giovedì 4 novembre, per il lancio ufficiale del videocorso di Alessandro Lazzaro. Accumulare capitale! Ti aspetto!